Ciao a tutti, oggi prepareremo la danette o budina al cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte intero, zucchero, cacao amaro, amido di mais e roma di mandorle. Andiamo via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero, l'aroma di mandorle, il cacao e l'amido di mais. Ed azioniamo il bimbi per 9 minuti, 90 gradi, velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamolo in delle coppette. Adesso lo riporremo in frigo per 3-4 ore circa. Il budino è pronto, serviamolo. Danette o budina al cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!